Continuano le visite pastorali del Vescovo della Diocesi di Nicosia il 20 febbraio. Monsignor Salvatore Muratore, accompagnato dal parroco della cattedrale Padre Santino Paternò, ha visitato il Consiglio e la Giunta Comunale di Nicosia, ad accoglierlo il Sindaco Luigi Bonelli, la Presidente del Consiglio Comunale Annelida Consentino e la maggior parte dei consiglieri comunali. Oltre al primo cittadino e della Presidente del Civico Consesso, sono intervinti anche diversi consiglieri comunali, soddisfatti per la visita del Presidio del Palazzo, dove si decidono le sorti della comunità nicosiana. Il Vescovo ha voluto ricordare i presenti come le sfere religiose e politiche, seppur distinte, convergono verso il bene dell'uomo e della comunità. Monsignor Muratore ha richiamato il dovere degli amministratori politici verso la comunità che li ha eletti ed ha auspicato che la loro opera sia sempre guidata verso l'interesse comune, e non verso gli interessi personali o di una parte politica.